L'associazionismo toscano ha lanciato la propria carta degli intenti per un sistema non governativo di accoglienza, illustrato nella sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze e basato su inclusione sociale e lavorativa di tutti i cittadini, italiani e non, in stato di marginalità. Offrire risposte all'emergenza abitativa e costruire piani per formazione e ricerca del lavoro sono gli obiettivi del terzo settore, che ha deciso di non partecipare al prossimo bando CAS del Ministero dell'Interno. Io la leggo un po' come dire appunto, noi nel DNA abbiamo queste cose, dell'attaccamento ai diritti delle persone, dell'accoglienza, di sostenere chi italiano o straniero ha bisogno di qualcosa di essenziale, però non siamo degli abbalcatori a basso costo, proviamo da noi a fare quello che possiamo fare anche perché ci sono tante persone che stanno rimanendo fuori dal sistema dell'accoglienza. La carta degli intenti del terzo settore si inserisce nel quadro delle linee guida del Libro Bianco sulle politiche di accoglienza presentato dalla Regione Toscana nel 2017 ed è aperto a nuove adesioni con un'idea precisa. Che sia un'accoglienza vera, reale, inclusiva, non come quella che ci viene richiesta dal bando che è praticamente una mera ed esclusiva sorveglianza, una sorveglianza di persone che poi non hanno diritti e non hanno possibilità di essere inclusi nel territorio. Nel corso della presentazione della carta degli intenti del terzo settore, l'assessore Vittorio Bugli ha spiegato che nel prossimo Consiglio regionale sarà discussa la legge toscana sui diritti essenziali, annunciata nelle scorse settimane e ha annunciato l'adesione della Regione alla campagna Io accolgo di Oxfam.